Welcome in my channel from Lily Fede Pape Witch. Prendiamo un foglio a 4 e cerchiamo di piegarlo in lunghezza, in due. Dopodiché creiamo due quadrati identici e quindi lo dividiamo ulteriormente lo apriamo e creiamo degli angoli 4 uguali lo richiudiamo su se stesso e cerchiamo di unire le parti io cerco sempre anche di abbellirlo con l'inchiostro per facilitarmi il lavoro io amo il distress lo richiudiamo su se stesso e cerchiamo di agganciarlo in modo da creare proprio una tasca una volta fatto questo lavoro incolliamo la parte bassa e cerchiamo un po di raddrizzarlo e il progetto è finito spero vi piaccia spero vi ispiri e continuate a seguirmi ed ora potete vedere il progetto finito grazie continuate a seguirmi e iscrivermi al mio canale ciao ciao